Il video fra il brasiliano e Michel Comi è ufficialmente uscito in maniera integrale ma questo video ha generato un polverone assurdo sul web per un motivo in particolare ovvero per le dimensioni del brasiliano ora chiaramente io qui su youtube non mi posso mettere immagini non censurate ma grosso modo ecco mettiamola così la lunghezza è più o meno quella del suo indice e ovviamente su tiktok e in tantissime altre parti del web in tantissimi hanno iniziato a prenderli in giro per questa cosa in primis per dei suoi filmati vecchi dove lo diceva di avercelo di 21 centimetri addirittura poteva arrivare a 25 e poi anche chiaramente come hanno fatto molti per cercare di prendere hype ma lui ha risposto a tutti siamo tranquilli ha risposto a tutti non aggiungo altro vi lascio filmati noi ci vediamo un prossimo video linea lo studio ricordate i tuoi centimetri scusa c'erano 21 amico mio c'erano 21 calcolati già misurati ce l'ho pure storto se c'eravamo dritto c'erano 25 amico mio no io non l'ho visto niente me l'hanno segnalato in palestra in palestra mi hanno segnalato ma detto c'è il basiliano c'ha una spiglietta pesacchiale c'è il cazzo piccolo e il cazzo moscio calma 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 il pisello ah il pisello il pisello il pene io avevo un pene abbastanza moscio perché gli avevo pure dato vabbè hai fatto due bottarelle ma questo è il primo motivo che hai dato due bottarelle ma io se vuoi te lo faccio subito no 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 io te lo faccio però tu non ho capito perché prima di fare una prestazione sessuale ci si poteva pulire gli occhiali ok e solo da quando tu sei rimasto dopo tutte queste diciamo gente che ha ironizzato meme non te ne frega niente guadagno una piotta al mese Giuseppe ma io posso da letta a questi ritardati falliti che campano con 20 euro al giorno e con i redditi dei cittadinazzi guadagno 100.000 al mese io 100.000 al mese uuuu